Diamo il buongiorno alla sindaca di Gragnano Trebbiense, Patrizia Calza. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. C'è questa bella notizia, ne avevamo poi già parlato, però adesso sono partiti i lavori per la scuola dell'infanzia di Gragnano, che sarà così in sintesi più ampia, sicura e di minore impatto energetico. Sono lavori importanti, sindaca. Sì, sono sicuramente per il nostro comune uno dei lavori più importanti che abbiamo affrontato in questi anni. Questo grazie appunto a un finanziamento PNRR di 1 milione e 50 mila Euro che abbiamo ottenuto. Sostanzialmente in questo modo riusciamo a intervenire sulla sede dell'infanzia utilizzata negli ultimi anni e diciamo farla diventare un tutt'uno con invece un edificio che è stato nel passato, parlo di ormai 80-90 anni fa, insomma un ex asilo, ma che era praticamente inutilizzato per mancanza di sicurezza. Quindi questo edificio esternamente, che risale agli anni 30, è stato sistemato con un altro finanziamento, mi riferisco al tetto e al cappotto, però ovviamente doveva essere rivisto tutto l'interno per poterlo diventare funzionale. Quindi con questo intervento complessivo uniamo queste tre porzioni, una del 1930, una degli anni 60 e una della fine degli anni 70. I ragazzi, i bambini, le famiglie delle scuole dell'infanzia di Graniano avranno a disposizione quindi molti più spazi e laboratori per poter svolgere anche delle attività aggiuntive rispetto a quelle attuali. Anche perché oggigiorno, il discorso sismico naturalmente che ha citato lei, è molto importante, però avere anche aule ad esempio più spaziose è un passo avanti verso il futuro. Sì, certo. Adesso la didattica è molto cambiata, insomma, non lo devo dire io, rispetto a decenni fa. Quindi anche gli insegnanti sono molto più impegnati in attività disperate proprio che inseriscono i bambini fin da piccolini insomma in quello che è la comunità, il paese, fanno fare esperienze di tipo diverso per rendersi conto appunto dove ci si trova, dell'ambiente in cui si vive, della natura, sperimentazioni varie che ovviamente non possono essere svolte sempre nelle aule classiche che venivano messe a disposizione tanti anni fa insomma gli adulti come noi. E quindi questi spazi erano assolutamente necessari oltre naturalmente, come dicevo, al tema della sicurezza che questo è sempre fondamentale. So che ha fatto un sopralluogo proprio per il via dei lavori. Quanto dovrebbero durare all'incirca? Allora, non speriamo che possano finire per l'inverno perché in realtà dovevano essere conclusi per l'inizio dell'anno scolastico ma purtroppo la gara che ha seguito la sua, la stazione unica paltante della provincia ha visto alcune problematiche nel senso che sono stati esclusi le due prime imprese che si erano giudicate il lavoro quindi questo ha mancanza dei requisiti in sede di controllo. E quindi gli aggiudicatari sono una ditta che sta lavorando molto seriamente siamo molto contenti di loro ma ovviamente sono intervenuti mesi dopo quindi devono avere il tempo per poter svolgere in maniera corretta il lavoro. Ma questo non ci preoccupa perché abbiamo trovato la disponibilità della scuola scarabiniana di Casaliggio che ci hanno ospitato i nostri bambini e quindi c'è stata anche questa collaborazione che abbiamo trovato all'interno appunto della comunità gragnanese che ci ha consentito poi di poter avviare i lavori perché altrimenti avremmo dovuto rinunciare a un finanziamento così importante quindi noi siamo veramente molto riconoscenti nei confronti di Suor Giuliana e della sua comunità. E poi sarà un bel regalo dunque per il 2025. Noi ringraziamo la sindaca di Gragnano, Patrizia Calza per averne parlato insieme a noi. Grazie a voi, grazie a voi per questo spazio. Buona giornata.